La nostra attività è una attività a 360 gradi, non trascura niente, per cercare il più possibile di garantire la sicurezza dei cittadini. Il Molise esiste, con questa frase il questore di Isernia Roberto Pellicone ha concluso il suo discorso dai toni molto emozionati, ha tracciato un bilancio dei suoi otto mesi trascorsi finora al vertice della questora di Isernia nel corso di questa giornata dedicata alla Polizia di Stato. Il capologo Pentro ha voluto celebrare i 167 anni della Polizia e il questore ha voluto una vera e propria festa. Accanto ai momenti strettamente istituzionali ci sono stati anche degli attimi di spettacolo con i bambini della San Giovanni Bosco che hanno intonato l'Inno d'Italia. C'è stata anche l'esibizione del coro gospel della città di Isernia e anche uno spaccato su ciò che significa sicurezza e ciò che significa legalità che è stato illustrato dai ragazzi del liceo Cuoco che nei giorni scorsi hanno visitato la questura. È stato posto l'accento da parte del questore sulle tante operazioni che si sono svolte nel corso di questi mesi. Sicuramente una delle più importanti, quella che ha certamente colpito maggiormente l'opinione pubblica, quella relativa all'asilo di Venafro e all'interdizione dall'insegnamento delle due maestre. C'è stata l'indagine della squadra mobile ma non solo. Tanti accertamenti anche per reprimere lo spaccio di droga e questa è una delle priorità della questura ma sono stati sottolineati tanti aspetti, il lavoro quotidiano che i poliziotti svolgono per le persone. Un concetto questo che è stato ampiamente evidenziato anche dalla prefetta Cinzia Guercio. Ma sentiamo nell'intervista il bilancio del questore Pellicone. Sono molto soddisfatto del lavoro che sta svolgendo la questura di Sernia ma la polizia di Stato più in generale qui a Sernia. Sia attraverso un'attività di prevenzione sul territorio ma anche, come diceva lei, in ambito repressivo. Numerose sono state le polizie giudiziarie che abbiamo portato a termine soprattutto per arginare il traffico di sostanze stupefacenti. Quindi grande soddisfazione, vogliamo continuare su questa strada, non solo su questo profilo ma anche cercando di rendere concreta la filosofia di prossimità quindi con iniziative vicine alla gente, vicino al mondo scolastico come testimoni anche oggi questa festa che vede protagonisti proprio assieme a noi, i ragazzi delle scuole di Sernia. Ci sono circa 600 ragazzi che affolleranno questo teatro e che sicuramente ci racconteranno come ci vedono, come vedono la polizia di Stato qui a Sernia. Nel foie dell'auditorium di Sernia ha banchetti illustrativi con le varie attività delle specialità della polizia di Stato, anche una mostra fotografica. Il questore sempre nell'intervista ha sottolineato la collaborazione che dopo un primo periodo di assestamento ha trovato proprio nella popolazione di Sernia. Ha fatto gli esempi del titolare di un bar che ha denunciato dei rapinatori dopo essere stato testimone oculare del reato oppure ha voluto qui i titolari di una sala giochi che a loro volta hanno collaborato con la polizia per fare in modo che nei locali di Sernia non ci siano i pregiudicati e che quindi si rispettino ai massimi criteri di sicurezza. Sentiamo quindi ancora il questore. Un giudizio di questa realtà è un giudizio positivo. Io inizialmente ho trovato un po' di chiusura. Devo dire che più passa il tempo più vedo apertura, vedo collaborazione, vedo contatti sempre più frequenti. Dipende dalla gente ma dipende anche da noi che dobbiamo stimolarli. Quindi vedo la strada in discesa. Grazie.